Prima ci vuole un bel taglio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questo gioco ci sono voluti anni di preparazione per riuscire a realizzarlo in teatro con la gente tutta intorno. E sembra incredibile, ma riuscire a farlo in mezzo alla strada sembra un vero miracolo. Se qualcuno ha pensato ad un trucco televisivo, beh, dovrebbe chiedere a quel gruppo di bambini che hanno incontrato David. Ragazzi, state a guardare. È bello farlo anche per strada. Le reazioni sono incredibili.